Sono i giovani al centro delle attività promosse dal centro di formazione Selesiani, diretto da Don Paolo Terrana. I festeggiamenti di Don Giovanni Bosco, fondatore dei Selesiani, si sono rivelati propizi per tracciare un bilancio delle attività dello storico centro di formazione del villaggio Aldisio e lanciare un monito alle istituzioni. L'altra problematica che affligge di più i giovani e non solo i giovani è il fatto della mancanza di lavoro con una continua emigrazione anche dei nostri stessi ragazzi che vengono alla nostra scuola professionale, tantissimi non trovano lavoro qui ma devono andare fuori. Fino alla settimana passata mi ha telefonato una persona che voleva cinque saldatori per andare in frangia, questo proprio per dire come purtroppo i nostri ragazzi non trovano spazio qui ma trovano fuori, quindi questa è una delle problematiche più grosse. Lo storico centro di formazione Selesi che aveva subito un duro colpo con il governo Crocetta continua ad attraversare un momento difficile anche col nuovo presidente Musumeci. In mezzo a tanti problemi perché purtroppo la regione non sembra puntuale in quello che dovrebbe fare, stiamo cercando di andare avanti lo stesso, certo ci sono parecchie difficoltà però noi proprio perché ci teniamo al bene dei ragazzi stiamo andando avanti. Intanto domani iniziano i festeggiamenti di San Giovanni Bosco, fondatore dei Salisiani. Iniziamo una settimana prima con San Francesco di Sales che è colui da cui abbiamo preso il nome. Lungo la settimana ci sono vari tipi di manifestazioni, le manifestazioni in chiesa, liturgie come per esempio il triduo, poi la celebrazione dell'eucaristia, la processione. Con i ragazzi ci sono attività sportive, attività formative dedicate a loro, soprattutto il sabato 25 e poi la domenica 2. Mentre per quanto riguarda le celebrazioni si articoleranno nei giorni di 28, 29 e 30 e il 27 che si dà inizio anche al triduo. E poi il giorno della festa è anticipato da una veglia che siccome noi riteniamo che Don Bosco non sia semplicemente un dono ai Salisiani ma anche alla città di Gela, visto che ormai i Salisiani è da quasi 70 anni che si ritrovano qui a Gela, è che andremo a celebrare nella parrocchia San Sebastiano Martire, come abbiamo fatto negli altri anni facendolo in un'altra delle parrocchie della città, proprio perché riteniamo, come dicevo, che Don Bosco è un dono non solo per noi Salisiani, per noi suoi figli e per tutta la famiglia Salisiana, ma anche per l'intera città di Gela.